Il generale Figliuolo nelle Marche, il piano non cambia, dice, a fine mese dobbiamo arrivare a 500 mila dosi giornaliere. Da oggi l'inoculazione del vaccino AstraZeneca è aperta alla platea dei 60-79 anni, mentre gli under 60 che hanno già ricevuto la prima dose riceveranno anche la seconda. La campagna vaccinale sta entrando nel vivo anche grazie a questo nuovo centro. Ci sarà un punto di svolta importante, a dirlo è stato il presidente della regione Marche Acquaroli, questa mattina a piedi ripa di Macerata. Nelle ultime 24 ore intanto sono 490 nuovi positivi nelle Marche, il contagio corre a Pesaro e Ancona. Quando la lontananza diventa pesante, da Senigallia la storia di due coniugi che a causa della pandemia non vedono la figlia e le tre nipotine che vivono a Roma da oltre un anno. Le mascherine sono fondamentali per proteggersi dal virus, ma come fare a riconoscere quelle sicure da quelle contraffatte, ecco un mini vademecum stilato da un'azienda di Padova. La neve e il gelo, ieri questi giorni creano problemi all'agricoltura, ma a preoccupare di più il settore è la mancanza d'acqua nei pozzi per la scassità delle piogge dello scorso inverno. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questa nuova edizione della telegiornale Occhio alla notizia sul canale 17. Allora partiamo, apriamo questa edizione del telegiornale con la visita nelle Marche del commissario per l'emergenza Covid figliuolo. Il generale si è detto soddisfatto del piano vaccinale della regione e ha annunciato entro la fine del mese, il mese di aprile, che si potranno somministrare fino a 15.000 dosi al giorno. Vediamo il servizio di Simona Zonghetti. Il target non cambia, quindi noi dobbiamo arrivare a 500.000 a fine mese, però abbiamo aperto da oggi la platea dai 60 anni in su. Ha fatto il punto sul piano vaccinale il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo, arrivato questa mattina nelle Marche, insieme al capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio. Il generale, che ha fatto tappa al punto vaccinale di Piediripa a Macerata, ha detto che le Marche sono molto vicine al target. Ieri la regione ha fatto 9.000 vaccinazioni e da questa settimana devono arrivare intorno a 10.000, ha spiegato, per poi portarsi regime a fine mese per essere in linea con il piano, cioè con le 15.000 inoculazioni. Il generale ha intervenuto anche sulle novità che riguardano AstraZeneca. Lema, sottolineato Figliuolo, ha detto che è un vaccino sicuro e spero che la vicenda si concluda così. Le seconde dosi vanno a chi l'ha già fatto la prima, le altre abbiamo allargato la platea dai 60 ai 79. Dai 60 ai 79 anni sono circa 13.275.000 possibili utenti, di cui 2.270.000 hanno già ricevuto una prima dose in precedenza e quindi prioritariamente il target è questo. Tra questo trimestre e il prossimo, ha proseguito il commissario, arriveranno 30 milioni di dosi AstraZeneca che copriranno la popolazione che rientra in questa fascia di età. Adesso è importante ridare fiducia a tutti e vaccinarci. Se ci vacciniamo usciamo, se riusciamo a completare gli over 80 come si sta ben facendo qua ai fragili, noi riusciremo poi subito ad aprire alle classi produttive. I nostri territori hanno sofferto, questo è un territorio del Made in Italy. Dobbiamo riportare il Made in Italy nel mondo e ci dobbiamo di aprire, grazie. Terminata la visita nella struttura benedetta dal vescovo Nazareno Marconi, figliuolo si è spostato al punto vaccinale di Ancona allestito nell'impianto sportivo Paolinelli, poi si è recato a Palazzo Raffaello dove ha incontrato la giunta regionale e i prefetti delle Marche. La campagna di vaccinazione sta entrando nel vivo e anche grazie a questo nuovo centro ci sarà un punto di svolta importante. A dirlo è stato il governatore delle Marche Francesco Acquaroli presente questa mattina insieme all'assessore alla Sanità a piedi ripa di Macerata. Ulteriori novità nel piano, ha aggiunto il Presidente, le avremo quando il numero delle dosi ci consentirà di coinvolgere anche le imprese, le associazioni di categoria e i sindacati. Ringrazio le amministrazioni e tutti coloro che si sono adoperate per mettere a disposizione punti vaccinali come quelli che abbiamo inaugurato oggi. Credo che i tempi dipendano, come le dicevo, molto dal numero di dosi che ci verranno consegnate. Noi potremmo raggiungere anche una capacità vaccinale che oggi intorno ai 10.000 potrà essere implementata, ma per implementare la capacità vaccinale debbono prima essere messe in sicurezza le categorie fragili, le categorie deboli e poi possiamo così coinvolgere altri soggetti e ampliare i punti di vaccinazione. Acquaroli poi è intervenuto sui possibili contagi all'interno delle scuole dove, assicura il Presidente, terremo alta l'attenzione. Non possiamo permetterci che magari fra un mese, quando l'Italia potrà, speriamo, con l'auspicio tornare su fasce con una capacità di restrizione minore, poi magari le marche vedranno riprendere la curva del contagio. Quindi non intendiamo fare azioni di prevenzione, ma un monitoraggio forte sulle scuole e anche nelle città. Tutte le città che supereranno 250 su 100.000 contagi percentuali a settimana saranno oggetto di restrizioni che andranno a cercare di tenere la curva sotto controllo senza arrivare a misure che coinvolgono le province o tutta l'intera regione. E al centro vaccinale di Pesaro invece le cose anche oggi non sono andate un granché bene e a dirlo è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che scrive al centro vaccinale di Pesaro allestito all'interno del grande centro commerciale anche oggi si sono registrati nuovi disagi organizzativi per la vaccinazione. Il posto è eccezionale scrive il sindaco di Pesaro ma oggi funzionavano solo due punti vaccinazione su otto. Pare che mancasse personale sanitario per la somministrazione del siero. Cara regione Marche e Asur, scrive Ricci, sono mesi che vi diciamo che dobbiamo migliorare e potenziare il lavoro. Bisogna moltiplicare i posti e gli operatori sanitari. Il luogo scelto a Pesaro va benissimo ma se non ci sono vaccinatori si creano dei disagi e delle file. Mi dispiace, conclude Ricci, per i tanti cittadini che oggi hanno segnalato a me e altri sindaci queste grandi difficoltà. Intanto sono 15 decessi legati al coronavirus nelle ultime 24 ore. Nella nostra regione tra le vittime ci sono anche due persone residenti nella provincia pesarese. Sono 490 invece i positivi al covid registrati nell'ultima giornata. La provincia più colpita è quella di Pesaro e Urbino con 152 nuovi casi seguita da quella di Ancona con 149 positivi. I ricoveri negli ospedali sono in leggero calo. I pazienti in terapia intensiva scendono a 138 mentre quelli in semi intensiva a 204. Il pericolo di contagio ci costringe a stare, a mantenere le distanze e spesso anche a stare lontani per molto tempo. La storia che adesso vi raccontiamo arriva da Senigallia, una coppia di coniugi non vede la figlia e i nipotini, le nipotine, le tre nipotine che vivono a Roma da oltre un anno. Prima il lockdown, poi le zone rosse e i provvedimenti adottati dallo Stato e dalle regioni anche nelle singole province. Da più di un anno ormai Marco Burnelli, settantenne di Senigallia e sua moglie non vedono la figlia e le tre nipotine di 8, 10 e 12 anni. Una mancanza provocata dalla pandemia e dalle scelte prese dalle istituzioni che continua a pesare. Impossibile per loro vedere i familiari anche durante le festività. Quello che non digerisco è che sono stati di volta in volta dati permessi a chi aveva le seconde case di andarci. Quindi io se avessi avuto un monolocale a Roma sarei potuto andare e quindi queste persone hanno avuto in tutte le festività, ma comunque anche in tutte le altre date dell'anno, la possibilità di andare nelle seconde case. Chi non c'era la seconda casa a Natale, a Pasqua, magari un giorno solo, magari facendo anche un tampone prima, un tampone dopo, tutto quello che però a noi c'è stato proprio negato. E questa è una cosa che ritengo molto una disparità da parte dei nostri politici di tutti i livelli che nessuno ci abbia pensato. E alle vacanze all'estero, perché anche quelle sono permesse in alcuni posti. Oltre a quello, poi Dulcis in fundo, anche quelle adesso. In sostanza vede crescere i suoi nipoti attraverso uno schermo. Che cosa le manca di più di loro? Il contatto. Quando una nipotina di otto anni a fronte di questo colite, io mi do il soprannone all'avvocato acquistato in botina, tanto per farla capire. Mi ha fatto, nonno, guarda che io questi vaccini non li faccio assolutamente, perché questi vaccini fanno male. Ma sai, no, bisogna vedere. No, fanno male. Poi, però nonno, se io faccio il vaccino, mi fanno venire da te, lo faccio. E quindi ecco, a me manca questo contatto affettivo, anche con mia figlia, che anche avrebbe bisogno, soprattutto adesso che il marito è ingegnere, ha trovato lavoro a Bologna e quindi adesso entro l'anno si devono trasferire e devono andare a cercare casa. Ci hanno tre bambine, avrebbero bisogno d'aiuto e non possiamo darlo. E quindi è una situazione un po' pesante. Dopo un anno è un po' pesante, perché poi siamo io e mia moglie, per carità, ringraziamo il cielo che siamo in due. Però siamo in due, tutti i giorni in due, con l'unica figlia, lontana, è in queste situazioni. E questa è una storia tra le tante, tantissime storie. Capiamo un attimo pagina per parlarvi di cronaca. È stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Pesero, l'imprenditore che non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta 2017-2018, pur avendo operato nel commercio al dettaglio di prodotti via internet nella zona di Vallefoglia. L'operazione delle Fiamme Gialle ha consentito di accertare la mancanta dichiarazione di 650 mila euro di ricavi e di qualificare il contribuente come evasore totale. L'attività si è conclusa con la comunicazione dell'Agenzia all'Agenzia delle Entrate per gli accertamenti di competenza. E sempre la Guardia di Finanza nelle scorse settimane ha sequestrato anche centinaia di mascherine contraffatte, mascherine false, anche nella provincia di Pesero e Urbino. Allora vediamo nel prossimo servizio come fare per riconoscere quelle, le mascherine che sono a norma e quelle invece che non lo sono. Sono decine di milioni le mascherine fasulle che girano per l'Italia. Molti sono i truffatori che hanno approfittato dell'emergenza sanitaria e del fatto che alcune aziende abbiano per questo deciso di avviare procedure di importazione. Le norme infatti a volte non vengono rispettate e i consumatori chiedono informazioni e certezze ai rivenditori. Ma com'è possibile riconoscere le mascherine irregolari? Clary Science, azienda di Padova che analizza i documenti in materia, ha pensato di stilare un miniva de Mecum. Come prima cosa però è necessaria una distinzione. I requisiti delle chirurgiche sono diversi rispetto a quelli richiesti per i dispositivi di protezione FFP2 e P3. Per le mascherine chirurgiche sulla mascherina stessa per esempio non è possibile trovare delle indicazioni specifiche, bisognerà guardare la confezione, mentre per le maschere di protezione individuale, le maschere filtranti FFP2 e FFP3, se sono conforme a quanto previsto dalla normativa europea, è possibile ritrovare delle informazioni sulla mascherina stessa. In base ai regolamenti europei, ci spiega Margherita, nelle FFP2 e FFP3 deve esserci l'indicazione della normativa EN 149, il tipo di maschera e il marchio CE, che deve avere delle proporzioni ben precise. Se è diverso o ha proporzioni differenti rispetto a queste, allora è possibile che il prodotto sia contraffatto e non assicura quindi il rispetto degli standard di sicurezza imposti dalle normative. Inoltre le maschere filtranti FFP2 e FFP3, essendo dispositivi di protezione individuale di terza categoria, richiedono che la marcatura CE presenti accanto al marchio il numero dell'organismo notificato che ha appunto certificato questo prodotto. Quindi ci devono essere questi quattro numeri accanto al marchio? Corretto, i numeri vanno a identificare quello che è l'organismo notificato che si è occupato della certificazione del tipo, quindi dell'analisi della performance, del prodotto. Ogni numero corrisponde a un organismo notificato, gli organismi notificati sono elencati sul sito della Commissione europea e quindi è possibile andare a ritrovare in una banca dati pubblica, che si chiama Nando, le informazioni riguardo a questi organismi notificati. Per quanto riguarda i prezzi, invece la situazione è incontrollata, cosa che non sorprende. Purtroppo in periodi di forte domanda, le differenze sono spesso difficili da giustificare e data la situazione del mercato, non si deve valutare la qualità delle mascherine in base al prezzo. Infatti, ad esempio, le mascherine chirurgiche oggi si trovano più facilmente rispetto all'inizio della pandemia. Anche per quelle filtranti, i prezzi si sono abbassati e stanno tornando ai livelli di mercato precedenti all'emergenza sanitaria. Ogni singolo dispositivo, fino a un anno fa, costava meno di un euro. Questi ultimi, inoltre, devono essere utilizzati solo per un turno di lavoro, e cioè al massimo otto ore, dopodiché diminuisce l'efficacia di protezione. Se la mascherina chirurgica è monouso, non può essere riutilizzata. Esistono però delle mascherine chirurgiche riutilizzabili, per le quali il fabbricante ha effettuato delle verifiche specifiche per confermare la performance del prodotto anche dopo diversi utilizzi. Le istruzioni per l'uso devono essere assolutamente riportate come devono essere trattate queste mascherine chirurgiche per poter essere riutilizzate e dovrebbe essere indicato anche quante volte al massimo possono essere riutilizzate, perché deve essere garantita la stessa performance appena aperto il prodotto e dopo il numero di riutilizzi previsto. Continua l'attività di verifica della Polizia Locale che insieme agli agenti del commissariato di Fano sta controllando gli edifici abbandonati della città. Alle 6 di questa mattina sono state eseguite delle verifiche alle terme di Carignano. Dal controllo non sono emerse tracce o elementi riconducibili all'occupazione abusiva dello stabile. L'intervento quindi si è concluso con l'individuazione dei proprietari che sono stati contattati per ripristinare lo stato dei luoghi. Il freddo e la neve di questi giorni stanno mettendo a rischio i raccolti nella provincia di Pesaro e Urbino. A preoccupare però è anche la siccità a causa delle poche piogge. Il colpo di coda dell'inverno dopo l'inizio della primavera che ha visto un lungo periodo di alte temperature sta mettendo a dura prova il risveglio della vegetazione che ora è più sensibile alle basse temperature. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell'ondata improvvisa di freddo che ha colpito nei giorni scorsi molte regioni italiane tra queste anche le Marche. A livello nazionale il maltempo ha fatto perdere oltre 14 miliardi di euro in un decennio tra cali di produzione e danni alle strutture e infrastrutture nelle campagne. Queste gelate a nevicata di ieri, le gelate notturne di 3-4 giorni che sta facendo anche sotto zero soprattutto sul piante da frutto come ciliesi, albicocchi, peschi che erano decisamente avanti ovviamente vedremo in futuro ma i danni saranno importanti perché non porteranno i frutti desiderati. Il rischio di questo drastico calo delle temperature continua di Sante è di avere circa il 70% di produzione di frutta in meno. Stessa situazione per ortaggi e verdure anche qui i rischi e i problemi sono tanti. Le verdure fresche si vede che vengono colpite subito quindi ingialliscono, aggrinziscono e di conseguenza non sono più messe in commercio. Per quanto riguarda altre culture arbore come i vignetti e gli olivetti è chiaro che anche qui la situazione è abbastanza drammatica perché i vignetti hanno appena buttato fuori le piccole gemme e gli olivetti avendo avuto temperature alte le settimane scorse i rischi sono grossi perché di fatto è una pianta molto delicata e quindi rischia veramente di non portare il frutto finale. Ma non è solo il freddo a destare preoccupazione tra gli agricoltori locali e i singoli cittadini. C'è anche la siccità infatti nei pozzi della nostra provincia sta scarseggiando sempre più l'acqua bene prezioso da preservare e conservare. Secondo una media negli ultimi anni il mese di febbraio ha avuto un calo del 50% di piogge e quello di marzo del 75%. È chiaro che è una situazione drammatica andiamo incontro a un clima di tropicalizzazione di conseguenza quando piove molto dobbiamo creare degli invasi dei laghetti artificiali che possono trattenere l'acqua l'acqua va sprecata di meno sicuramente anche sulle tubature comunali è un bene prezioso che dobbiamo comunque sia preservare. Dal punto di vista politico ci stiamo muovendo nei confronti della regione a livello nazionale per far sì che con i consorsi di bonifica gli agricoltori possono, visto questi cambiamenti climatici che diventano costanti possono andare incontro a delle formule di assicurazioni con i consorsi di difesa si possono fare delle formule di assicurazioni è chiaro che ci vogliono dei ristorni da parte della regione da parte nazionale per una sorta di contributo che faciliti questa situazione e che faccia sì che gli agricoltori possono mantenere un reddito costante più garantito perché altrimenti ogni anno sono sotto queste vicende di tropicalizzazione queste vicende climatiche e drammatiche e quindi con grandissimi problemi economici. Ancora cronaca due pakistani di 22 e 35 anni sono stati arrestati dalla squadra mobile di Senigallia per concorso in detenzione di droga a fini di spaccio all'interno di un'auto partita da Senigallia diretta ad Ancona la polizia ha trovato sotto la scatola dello sterzo un panetto di eroina del peso del peso di oltre un etto e 10 grammi l'involucro con l'eroina era stato sistemato tra il vano porta fusibili e la parte sottostante il volante avvolto nel nastro adesivo da pacchi i due pakistani sono stati trasferiti nel carcere Anconetano di Montacuto in attesa di convalida e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento con i programmi di Fano TV vi ricordo l'appuntamento di domani mattina alle 7 con la rassegna stampa occhio ai giornali arrivederci grazie a tutti grazie a tutti